Ciao amici di GQ, sono Valerio Mazzei e oggi risponderò ad alcune vostre domande. Allora, vi dico la verità, io tremo quasi più di voi, non so se mi vedete sul palco, non so se vedete i video ultimamente che mi state facendo mentre magari canto 12 luglio, ma sono veramente veramente molto più emozionato di voi e molte volte non ve ne accorgete neanche. Quando voi mi chiedete le foto e vi trema la mano, poi mi date il telefono a me e mi trema anche a me, quindi sono super super emozionato. Sotto il punto di vista di cambiamento di vita, ovviamente è cambiato veramente tanto perché mi sono trasferito da Milà e da Roma a Milano, sono andato a vivere con i miei amici, ho i miei soldi, faccio la spesa, ho imparato a stirare, ho imparato a lavare i piatti, che cose che prima non facevo, quindi sotto il punto di vista del carattere non sono cambiato, ma sotto il punto di vista della vita in generale è cambiato tutto, velocissimo. Tutti si aspettano sia 12 luglio e lo è, però ce n'è un'altra molto 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 bella che non è ancora uscita ed è dedicata a mia sorella, quella che ci ho messo più a scrivere perché l'ho scritta completamente da solo, senza l'aiuto di nessuno e quindi ci tengo tantissimo e non vedo l'ora che esca così la potete ascoltare. Allora, sì, veramente tantissimo e la prova è proprio la canzone 12 luglio perché prima di quel momento non avevo mai parlato con nessuno dei miei amici, non ne parlavo neanche con la mia famiglia praticamente ed è quello che mi ha fatto innamorare della musica, diciamo, perché da quel momento ho capito che mi aiuta a dire cose che non ho il coraggio di dire in generale e quindi mi piace veramente tanto, sempre. Ho una paura mortale, ogni volta abbiamo le sale sul palco, infatti a volte mi mandano dei video di io nel backstage che salto, tremo, perché ho sempre paura di arrivare sopra e scordarmi tutto, non so se vi ricordate quando facevate i saggi a scuola o le rescite di Natale che il giorno prima sapevi tutto alle prove, quando stavi per se le hai fatto io non so più niente o hai esami che studi, sai tutto, arrivi là e non ti ricordi assolutamente niente però una volta che inizi ti tranquillizzi, io già tipo la seconda terza canzone sono molto più tranquillo ma la prima, innanzitutto la prima nota stoni sempre perché sei emozionato, non sai cosa fare e poi ti rimetti in sesto e canti normalmente, però vi giuro ogni volta ho veramente tanta paura. Lega questa domanda me la fate tantissimo anche quando mi incontrate per strada, ovviamente in questo momento non mi piace la canzone Turbas perché sono cresciuto, mi sono evoluto musicalmente però non cambierei assolutamente niente perché comunque fa parte del mio percorso, come è molto probabile che le canzoni che sto facendo adesso fra 5 anni non mi piaceranno per niente perché mi sarò evoluto, avrò imparato a suonare meglio e cantare meglio e quindi non cambierei assolutamente niente perché fa parte del mio percorso, a riascoltarla mi vengono i brividi ovviamente perché il videoclip non mi piace, la canzone non mi piace, il testo mi sembra banale, però è normale, fa parte della crescita della persona. Bella domanda. Allora, sono cambiato molto sotto il punto di vista di saper vivere da solo, la mia prima casa era un disordine completo, ci stavano vestiti ovunque, non facevo la differenziata, c'erano sempre mille persone a casa mia, non sapevo gestire, non sapevo dire di no alla gente e quindi mi ritrovavo ogni giorno a dormire con 15 persone sul mio divano perché ero il primo dei miei amici a 17 anni ad avere una casa da solo e quindi tutti i miei amici salivano, non sono ancora al top, però sono molto più organizzato di quando avevo 17 anni e mi vedo molto cambiato in questo. Qual è la tua idea di felicità perfetta? Come ve ne siete accorti, spero, dalle mie storie, io amo, amo follemente i bambini, tantissimo, non vedo l'ora di avere un figlio e lo dico sempre, sono follemente innamorato dell'idea di avere il mio sangue in un'altra persona, quindi la mia idea di felicità completa sarebbe avere una casa completamente mia comprata, non un appartamento ma in campagna, cioè tipo devo stare tranquillo, largo, avere una mia macchina, una moglie bellissima, due figli, un maschio e una femmina, il maschio più grande di due anni, questo è ovviamente, si spera, cioè è l'ideale come avete detto voi, il maschio più grande di due anni e la femmina seconda, poi se si invertono non c'è problema, però due figli, macchina, casa e moglie, tranquillità. Oramai da cinque anni a questa parte molto molto spesso, diciamo tutti i giorni in qualsiasi posto dell'Italia, l'unico momento in cui non succede è quando vado in vacanza all'estero, tipo quando sono andato a Miami, a parte le persone italiane che stanno in vacanza a Miami, non mi succede molto spesso, però oramai mi sono abituato, cioè fa parte della mia routine, non ci faccio neanche più caso, cioè nel senso è diventato normalità, dei miei amici mi chiedono sempre ma non ti dà fastidio andare in giro, essere continuamente fermato che qualsiasi cosa fai ti possono fare un video, però non so come spiegarlo, è come dire non ti dà fastidio andare a scuola, cioè oramai fa parte della tua routine, non è una cosa che puoi cambiare, a me fa un piacere immenso farlo, quindi in conclusione quanto spesso ti capita? Sempre. Casa secondo me innanzitutto non è un posto fisico, perché di casa io negli ultimi cinque anni ne ho cambiate sei, quindi non posso avere una casa. A Milano ogni volta cambio posto e quindi non mi affeziono neanche al posto, alla fine è quando stai bene con delle persone, e quindi io negli ultimi cinque anni tre li ho vissuti con il mio concorino Tancredi, quindi in questo momento Tancredi è la mia casa, può essere che fra cinque anni cambierò coinquilino e dopo tre anni di affezionamento sarà lui, quando stavo a Roma era la mia famiglia, era mio padre, mia sorella, quindi è in base alle persone con cui stai e non il posto dove vieni. Ho iniziato a sei anni a fare golf, stranissimo, non se l'aspettava nessuno, perché a mio padre piaceva molto il golf, io vedo lui che giocava a golf e ho detto pure io voglio giocare a golf, quindi ho fatto due anni di lezioni di golf e il mio sogno era diventare un golfista, poi sono arrivato alle medie e i miei amici a scuola facevano tutti calcio e quindi io li ho seguiti, dovevo restare a giocare a golf 100%, e ho fatto tipo dieci anni di calcio e ovviamente là il sogno era diventare un calciatore, e poi crescendo ho cominciato a fare i social, il sogno era i social, si è realizzato e ora mi sono spostato sulla musica, e quello è il prossimo sogno. Ci sono due modi principali, o mi chiudo in me stesso, mi sdraio sul letto e mi metto a ascoltare la musica, che ti dirò, molto rilassante, sto là tranquillo e ignoro tutti i problemi, oppure con una serie tv, ti metti a accendere la tv, stai da solo in camera, luci spente, led blu che rilassano gli occhi, e là, ti rilassi, oppure le affronti, è molto più difficile, però ogni tanto va fatto, è inutile ignorarle per sempre perché poi aumentano e basta. La prossima domanda è che sport ti piacciono o che sport proprio non sopporti? Bellissima questa, ultimamente sto giocando quattro volte a settimana a paddol, è diventata la mia vita, io e tutti i miei amici siamo completamente innamorati di questo nuovo sport, nuovo fra virgolette in Italia, è il nuovo, però è veramente bellissima, è il mio sport preferito e ci vado quattro volte a settimana, quindi se mi volete sfidare, io sono pronto, quando volete ci becchiamo a Milano, partita a paddol, uno sport che non sopporto, non esistono, io amo tutti i sport e li proverei tutti, sono sempre stato innamorato dello sport, ne ho provati 35, ho fatto tennis, ho fatto golf, ho fatto calcio, ho fatto la prova a palla a volo, li ho provati veramente tutti perché qualsiasi cosa che ha attività fisica a me piace, quindi in questo momento non ne odio, se ne scoprirò uno che odio ve lo dirò. Allora, mi piace la mia vita molto, diciamo nell'ultimo anno ho trovato proprio serenità completa, quindi sto veramente veramente bene in confronto ai primi anni. Cosa cambierei della mia vita? Forse riuscire a comprarmi casa, cioè stare da solo e non più con un conquilino, anche se amo Tancredi con tutto il mio cuore, però stiamo crescendo, poi come ho detto il mio sogno è fare una famiglia, avere mia moglie e quindi devo trovare casa da solo, questa è la prima cosa che cambierei, diciamo. E la terza è come ti vedi tra dieci anni, spero completamente realizzato con il mio sogno attuale che è la musica, spero di continuare a fare musica nei prossimi dieci anni. E come vi ho detto, spero, 22 più 10? 32, sì, oramai a 32 un figlio lo posso avere, dai raga, perché adesso tutti mi guardano male quando lo dico, ma a 32 anni si può fare, quindi spero di avere un figlio se non due e vivere con mia moglie in quella casa. Tranquillo. Bella! Eh, questa mi ha messo un po' su due piedi, non ci avevo mai pensato, perché quando faccio qualcosa ci metto il 100% e spero di non fallire, però un piano B ce lo dobbiamo avere sempre. Allora, tornare a Roma con mio padre e fare il lavoro che fa lui, mi faccio spiegare benissimo come farlo e cosa fare, e prendere la sua azienda e continuare quello, quello sarebbe il mio piano B. Non sono ancora bravo, perché non l'ho mai provato, però mi puoi insegnare, imparo molto velocemente. Ci avevo mai pensato? Non serve un piano B. Ciao amici di GQ, sono Valerio Mazzei, grazie mille per queste domande, se volete guardare altri video, cliccate qui. Ciao. Ciao. Ciao.